Sabato 10 ottobre, finalmente dopo tanto bodyweight torna il Team of Two Warm up, sono 3 set di 10 dumbbell deadlift e 10 air squat Dopo aver fatto questi 3 set di 10-10 abbiamo un 200 metri di corsa, molto tranquilli Dopodiché abbiamo il warm up che finalmente è in Team of Two Ovviamente mantenendo sempre le distanze corrette, ognuno avrà la propria attrezzatura, che in questo caso è un dumbbell E il workout è un four time e prevede che cosa? 400 metri di corsa che vengono fatti insieme all'aperto A rientro dalla corsa abbiamo 25 synchro hang power clean con il braccio sinistro Ne abbiamo altrettanti sempre in synchro con il braccio destro e dopodiché corsa A rientro dalla seconda corsa abbiamo 50 synchro dumbbell snatch corsa e poi abbiamo 100 synchro dumbbell snatch, no scusate squat snatch e si conclude di nuovo con 400 metri di corsa E per finire mi raccomando come cash out, enjoy the rider e mi raccomando seguitici sui nostri canali social che sono Instagram, Facebook e il canale YouTube Warm up che inizia con dei dumbbell deadlift, quindi il dumbbell appoggiato in mezzo ai piedi, spalla in linea con il peso, spingo con le gambe per staccare il peso e lo riappoggio a terra Dopodiché abbiamo degli air squat, piedi alla nostra larghezza squat, vuol dire più larghi dire anche punte leggermente extra ruotate Scendiamo in accosciata completa con l'anca che arriva più in basso del ginocchio mantenendo tutto il piede ben incollato a terra, la schiena dritta Aiutiamoci mandando le mani verso il soffitto, quindi scendiamo e risaliamo Dopodiché abbiamo 200 metri di corsa A rientro dalla corsa abbiamo il workout tutto in synchro che inizia con appunto di nuovo 400 metri di corsa da fare insieme A rientro dalla corsa dobbiamo performare synchro hang power clean con la mano sinistra Quindi piegamento, salto ricevo, stendo l'anca e di nuovo a terra 1, 2, 3, sempre in synchro con il compagno Dopo aver eseguito i 25 hang power clean con la mano sinistra ne abbiamo altrettanti con la mano destra Sempre caricamento, spinta con l'estensione dell'anca, ricevo estendo Finiti questi ulteriori 25 hang power clean abbiamo di nuovo 400 metri di corsa Da eseguire insieme, a rientro dalla corsa, sempre tutto in synchro perché oggi il workout è tutto in synchro Abbiamo dei dumbbell snatch, il setup è come nel deadlift, nel riscaldamento Spingo, estendo, portiamo il dumbbell sopra la testa, ritorniamo a terra e cambiamo mano Il synchro sarà con il dumbbell a terra e con il dumbbell top position quindi sopra la testa Finiti questi 50, di nuovo effettiamo la corsa E a rientro dalla corsa andiamo a salire con le ripetizioni abbiamo 100 synchro dumbbell squat Possiamo tenere il dumbbell ad esempio in front rack con due mani, gomiti belli stretti Che si inseriscono all'interno dei gomiti quando siamo in accosciata completa All'interno delle ginocchia scusate Oppure possiamo andare ad appoggiarlo anche su una spalla mantenendo sempre però il contatto con le mani Finiti questi 100 synchro E il synchro è accosciata e per ritornare di nuovo completamente dritto insieme abbiamo i 400 metri di corsa finali Dopodiché enjoy the rider, godetevi il weekend, ci vediamo lunedì Grazie per la visione